Eccolo là collegato alla casa stessa. Buonasera dottoressa. Lei deve passare da un eccesso all'altro. Dalla bianchina siamo arrivati alla dottoressa qua. Dottoressa Berlinguer, sa cos'è questo? È un martello. Vabbè ma per chi mi ha preso? Neanche un martello. No, no, no. No, è una mazzetta. Questo è il martello. Allora aspetti perché io non vedo bene. Fregata anche stavolta. Guardi che meglio che queste domande me le fa quando sono seduta perché da qui ho il monitor lontano e non vedo bene. Che cos'era? Faccia rivedere. Il primo. Allora questa che lei ha definito martello è una mazzetta. E invece il martello è questo qui. Ok, l'avrei portato tutti e due per sicurezza. È perché sapevo che ci cascavano. Adesso un indovinello all'inizio di ogni trasmissione abbiamo. Di ogni puntata. Senta, ma prima di andare in pubblicità le volevo chiedere. Siccome da ieri hanno riaperto molti negozi, anche i bar, i ristoranti. Lei c'è tornato in quel bar vicino a casa sua di cui ci aveva parlato spesso? Sì, è l'unico che ha aperto per ora. La locanda Trattoria Giulia, qui a 5 metri. Perché io vivo vicino e ha aperto con le dovute cautele, con tutti i crismi della prudenza, della sicurezza. Solo che la gente a volte non ci va perché dice ma se devo andare lì e fare tutto questo iter e la tazzina non posso toccarla. Cioè è fatica a rassegnarsi con la mascherina, i guanti. Però insomma la gente ci va ma non va più volentieri. Qualcuno dice, ho parlato con un amico stamattina, mi ha detto ma io se devo fare questa trafila mi bevo la birra a casa. La birra, ma si può bere pure il caffè. Vabbè anche il caffè se lo beve a casa. Anche il caffè sì. Va bene, allora andiamo. Ovviamente i giovani no, i giovani non vedono, ma uno che è una certa età piuttosto che fare tutto quell'iter si beve qualcosa a casa. E questo è il pericolo, che non tutti ci vadano. Certo, però insomma cerchiamo invece di ritornarci a frequentare i bar, i ristoranti. Sì, a maggior ragione, a maggior ragione, ma c'è sempre questa mia voce orrenda che mi torna dentro. Allora intanto che andiamo in pubblicità e torniamo subito dopo con Mauro Corona, per favore levategli quel ritorno che ha nell'auricolare. Questo lo dovremmo dire sempre a ogni inizio di trasmissione insieme al quiz sugli attrezzi per vedere se li conosco o no. Ci vediamo tra pochissimo, pubblicità. E allora eccoci tornati in studio a Carta Bianca con Mauro Corona, collegato con noi da Aerto. Alla fine non c'è andato a Venezia, è rimasto dentro casa sua. Sì, ho deciso di finire maggio come un fioretto qui a casa mia nella mia tana e poi mi permetta, dottoressa Berlinguer, sarà più bella la mia tana che quello studio settico che sembra una sala parto lì a Venezia. Guardi qui che caos. Quello è vero, quello è vero. Senta, ma vedo che stasera sfoggia anche un nuovo abbigliamento. Che è successo? Eh, adesso la paga cara. Insomma, come mai questa erba verde? Che cos'è? Sì, però prima un amico mi ha detto, ah fai pubblicità alla Marianna. No, questa è un'ortica. E me l'hanno mandata da Ponte di Legno e l'hanno fatta per lei. Perché hanno detto che lei punge, sì, punge come un'ortica. Ma quando è cotta diventa buonissima. Ecco perché ha messo la maglietta dell'ortica e non della marijuana. Ah, quindi l'ha fatto per me, un regalo per me questa sera. Quello che me l'ha mandata ha detto indossala perché lei è un'ortica e punge. E fa male anche. Ma quando è cotta o lessa diventa buona come stiglia. Non è che è un gran complimento quando è cotta o lessa. Non so come interpretarlo, sinceramente. Ma no, è cotta nell'amore, nella dolcezza, nella bellezza, nella contemplazione. E mica l'ha messo nella caldia. No, le volevo dire che siccome andremo avanti un po' più a lungo per questa stagione, lo sapeva lei, no? Sì. No, sai che ho letto sul web che qualcuno dice chissà se ci arriveranno insieme fino a quella data. Secondo me ci arriviamo però. Lei che dice? No, dobbiamo dimostrare che ci arriviamo perché tutti hanno scommesso che lei e io si faceva baruffa e non arrivavamo da nessuna parte. Dimostriamo loro che arriviamo. Siamo già quasi a fine maggio, quindi già abbiamo resistito un bel po', no? Continuiamo. Mi fa fare un annuncio. Sì, mi dica, che vuole dire? Un annuncio. Volevo fare gli auguri. Domani raggiunge i suoi primi 70 a Erri De Lucca. e anche stavolta è arrivato prima di me come anche Till e Pulidor che quando Pulidor, rivale del genio anche Till, andò a trovarlo sul letto di morte e anche Till disse a Pulidor, caro Raimond, anche stavolta arrivo prima io. E Erri arriva prima i 70. Io in agosto, lui già, quindi facciamo gli auguri a questo grande scrittore, arrampicatore e il mio amico, il cumpare. Facciamo tanti auguri a Erri De Lucca. Senta, allora, ieri le ho chiesto prima se era andato al bar. Poi sa che da ieri si possono incontrare, oltre ai parenti, anche gli amici. Lei chi ha visto? Ha già visto qualcuno? No, io vedo un amico da due mesi e mezzo nella Valzemola che ha un piccolo rifugio, ma la casiera Mela però ha rispettato assolutamente l'erede, ancora non ha aperto né ha venduto mai niente. E lì sono andato a scolpire un percorso dove ho fatto il sole che nasce, il sole che tramonta, la luna piena. Possiamo vedere tra l'altro quelle sculture che ha fatto? La luna calante, lei è in luna calante stasera, la vedo. Con la moto sega, questa volta non mi sbaglio, eh? Sì, eh, stavolta mi ha fregato. Questa che cosa, che cos'è questa? Allora ho fatto il sole che nasce e dietro che tramonta, ma sono alte un metro e venti, poi c'è la luna calante, come lei stasera, e luna crescente, e poi c'è la luna piena. E faccio questo percorso. Vabbè, che cosa vuol dire luna calante? Chissà, quando lei dice qualcosa non si dice mai se è gradevole o sgradevole. Questo è sgradevole. No, 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 sempre gradevole. Che è giù di tono stasera un po'. Che cosa? Allora, è un po' giù di tono stasera, la sento. In che senso? E quindi il turista che passa, il camminatore, guarda queste piccole, queste sculture molto semplici. E ho notato che il forestiero, quello che viene dalla città, non è avezzo a vedere queste cose, e quindi si rimane sbalordito, ma non perché sono belle, perché è un'arte sconosciuta a lui. E quindi faccio vedere il legno, che sono legni di scarto, tra l'altro. Il legno, la pianta del tronco è che va buttata via il pezzo base, e si può invece fare qualcosa di buono. Certo, capito. Ecco, ma sai che ci chiedono sui social che fine ha fatto il Pogliana, non l'ha visto ancora, vero? No, no, lo sento ogni tanto col suo fischiettivo. Ma io volevo anche invitarlo qui, ma come fa a fischiare con la mascherina? Sembra un orango invece che un fringuello o un torto. Dobbiamo aspettare che cambiano le regole, se no non possiamo invitare. Sì, non possiamo, però ci sono un po' regole, un po' troppo... Si contraddicono anche queste regole, poi si scopre che in città i ragazzi fanno la movida, qui bisogna avere mille cautele, mille attenzioni. È giusto averle, però bisogna che tutti le rispettano, perché se scoprono che aumentano i contagi, ci chiudono di nuovo, allora è la tragedia davvero. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. D'altra parte anche questi pori ragazzi fanno anche... Certo, devono stare attenti, attentissimi, perché come dice lei, se ripartono i contagi è una tragedia per tutti. Però è anche vero che se sai tanto tempo chiusi dentro casa, da un giorno all'altro, insomma, non è che sbagliano, sicuramente sbagliano, però non è facile poi essere giovani e vedere la propria vita modificata così radicalmente e soprattutto non sapere neanche che cosa gli aspetta, perché poi non si sa quando ricomincerà la scuola, quando ricomincerà l'università, insomma, quando potranno tornare a quella vita che sembra un po' dimenticata ormai, no? Sì, io li capisco, i giovani a vent'anni. Guardi che io ne combinavo peggio di loro, non erano neanche... Ma quello non è dubbito. Era solo il corona senza virus, e quindi li capisco. Certo, infatti, però è vero che dobbiamo stare attenti. Senta, allora... Sì, raccomando loro un po'. Certo. Dica, dica, raccomando loro... Un po' di attenzione, ecco. Un po' di attenzione, anche perché poi... Ho sentito Zaia che dice, e anche la sua parte di ragione, anzi, pare che sia qui con lei stasera, e la dice, se continuate così, sono costretto a richiudere. Certo, poi lui è stato uno di quelli che più hanno in qualche modo prestato, insomma, insistito con il governo per allentare quelle misure di sicurezza, perché dice, se sono quattro metri tra un tavolo e l'altro del ristorante, rischiamo che nessuno poi possa tirare su le seracinesche, perché... È stato molto bravo Luca Zaia, era bravo anche quando era ministro dell'agricoltura. Pensa che sia un bravo amministratore? Sì, sì, perché... Io lo vedrei ad amministrare l'Italia intera, non solo il Veneto, perché per il suo Veneto ha fatto tanto. Ovviamente puoi fare il prosecco patrimonio dell'umanità, insomma, io farei il Barolo, però sono scelte individuali. Infatti ha visto che nei sondaggi Zaia è secondo solo come indice di popolarità al Presidente del Consiglio e soprattutto ha superato di parecchi punti in percentuale Salvini, come mai secondo lei? Ma come mai? È semplice la formula di Zaia, è che non sbraita, non fa l'eclatanza della voce e del gesto per prepararsi un terreno politico di voto in futuro. Zaia fa e ottiene e il Veneto lì è grato e se vanno a votare va su con l'80% e se vanno a votare, se si mette in lista in Italia supera Conte di gran lunga, perché fa le cose. Ovviamente non tutte al 100%, ma quando promette 100, 85-90, Zaia lo ha fatto. Quindi da quel punto di vista dice che è uno che mantiene le promesse. Senta, visto che il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ha commentato le riaperture che sono appunto avvenute ieri postando questa foto di lui che è andato a tagliarsi i capelli, come molti di noi, che ieri sono corsi appena potevano, dopo due mesi dal parrucchiere. Visto che lei invece dal barbiere comunque non ci va, che foto si farebbe? Venga lei a farmi la barba, venga su lei a farmi la barba. No, guardi che poi io non sono capace, è peggio che con la motosega lì, il trapano. Ecco, ma che foto si farebbe per testimoniare? Ma poi lei non se la farebbe neanche se venissi lì a fargliela, non ci credo che si taglierebbe la barba. Provi a venire. Quando riavrono i conti, no è lei che deve venire a Roma, no io che devo venire a Erto. Qua si stanno invertendo un po' le carte, cambiando le carte in tavola. Ecco, ma lei che foto si farebbe per testimoniare invece la fine dell'isolamento e l'inizio delle riaperture? Ma guardi, io andrei a un bel rifugio di montagna, ma non perché amo la montagna. Se fossi al mare, con gli amici ben distanziati, avevo anche insistito perché liberassero il lavoro delle guide alpine e dei rifugisti che vivono con la famiglia a penzoloni del rifugio. Ecco, io andrei in un rifugio, anche qui, ma anche non qui dal mio paese, e mi sederei fuori dalla staccionata con una bella bottiglia di vino, alcuni amici distanti e guarderei un tramonto. Lo so che è patetico, però alzerei il calice come ceglio, al son al got della vif e alla morte l'ultimo sorso, che se lo beva lei, diceva. Senta, allora, abbiamo detto che è rimasto nella sua tana, come la chiama lei, di Erto, però sa che gli psicologi ora dicono che esiste una sindrome della tana, soprattutto che riguarda i giovani, cioè gli adolescenti e i ventenni, perché un quinto di loro, nonostante la fine della quarantena, manifesta delle resistenze a uscire di casa. Lei che cosa direbbe a uno di questi ragazzi che ha paura a ritornare a vivere all'aperto? Anche forse per tutti quei vincoli che comunque dobbiamo rispettare. No, ma innanzitutto per quello, no, non è che abbia paura. Si è trovato bene a sua insaputa, come la casa di Scaiola, cioè li hanno chiusi lì e si hanno capito che stavano bene, e quindi uscire, però torneranno a uscire, ma non si deve forzare, se io sto bene lì, l'uscita va fatta per gradi. Se adesso vogliono stare lì alcuni, stiano lì pian pianin, poi andranno fuori dalla porta, poi andranno al bar vicino, tornerà, ahimè, ahimè, tornerà tutto come prima e io spero di no. Speriamo che torni, perché significerebbe che abbiamo in qualche modo sconfitto il coronavirus, no? Nel senso buono dicevo che questa lezione ci debba lasciare una traccia di comportamento, ad esempio usare meno l'automobile, inquinare meno, avere più rispetto, stare più uniti, essere più intimi con se stessi, leggere di più. Ecco, questo deve rimanere della tragedia, perché se torniamo, ci sono delle cose di prima, io per esempio, valgo poco, ma non tornerò mai più come prima, facevo una vita sciagurata, preso dalla vanità che lei mi ha detto, due, tre serate a settimana, rientravo alle cinque di mattina, ero scombussolato, mai più così adesso. Adesso lei non lo farà più questo? Si sente di garantire che non lo farà più? Sì, sì, garantì, no, invece che farne tre o quattro settimane per far vedere la mia brutta faccia che pontifica, ne farò una quando serve la presentazione di un libro, parlerò del libro di qualche amico, poi ve ne segnalo uno, e insomma, se non fosse per i morti, l'ho detto l'altra volta, io sono stato bene, perché senza saperlo ho migliorato la mia salute. Ecco, allora, io non ci credo che lei non tornerà a fare quelle serate, comunque vediamo, va bene, tanto ci abbiamo il tempo, speriamo che... Una ogni tanto. Eh, qualcuna, una ogni tanto. Ormai le mie serate sono come fare l'amore, una ogni tanto. Perché lei sembra così forastico, poi però andare a incontrare le persone le fa piacere, no? Ma, sì, ma guardi, non è solo la vanità, perché io ho detto che sono vanitoso, e c'è una parte di ragione, è anche una forma di riscatto da una vita miserabile, la povertà, l'abbandono dei genitori, adesso non sto qui a farvi piangere, e quindi il riscatto, direi, ci sono anch'io, ho fatto dei libri, ho fatto delle sculture, ho fatto delle scalate, ho fatto sbronze, e spero di farne ancora. Guardi che c'è anche lei, comunque se ne accorgono tutti, non è che lei passa inosservato. Guardi che io qui ho un bicchiere sotto il tavolo, ma non lo farò vedere per non danneggiare lei. Bravissimo, ha capito che come alla fine poi comunque danneggia me. Dico, lei stia tranquillo che inosservato non passa, che c'è anche lei, se ne accorgono bene. Da questo punto di vista. Sì, lo so, lo so. Eh? Lo so, lo so. Ecco, ma cosa ne pensa invece per tornare alla politica di quella manifestazione che è stata indetta per il 2 giugno a Roma dall'opposizione, prima ha cominciato la Meloni, poi c'è anche Salvini, adesso anche Berlusconi ci parteciperà. Sarà pacifica, hanno detto con le mascherine, manterremo il distanziamento necessario per non rischiare in nessun modo, ma le sembra opportuna in questo momento? No, non mi sembra opportuno, e non sarà pacifica. Non perché l'opposizione sia violenta, rissosa, ma perché c'è l'altra opposizione all'opposizione. C'è per esempio la sinistra, c'è questi giovani che andranno a fare barruffa, c'è poco da fare. Non era opportuna in questo momento. E non è così che si guadagna un futuro politico di voti. non è così, si aizzano gli animi lì, ma non è così che si fa, non serviva questa manifestazione. L'Italia sa già come siamo, non serve andare lì a dire ehi, qui niente funziona. Lasciamo lavorare Conte. A me, sinceramente, Conte non è che mi sia così simpatico, però se potessi dargli una mano a far funzionare questo caos che ci ha preso tutti alla sprovvista, perché fosse uno di destra, di centrodestra a governare questa situazione, vorrei vedere cosa fa. Perché io fossi in Conte, direi a Salvini, tieni le chiavi, Meloni, tenete le chiavi e provateci voi. Voglio vedere cosa fanno. Perché con bla bla bla, sono tutti capaci. Perché la situazione in questo momento è molto difficile. Ci dovrebbe essere, secondo lei, più collaborazione tra maggioranza e opposizione. Ma assolutamente. Non è che la situazione sia difficile. È sconosciuta. Certo. È sconosciuta. Quando io vado a scalare una cima, una parete nuova, non so se trovo l'appiglio lì o se salto giù. Vado per tentativi. Ovviamente anche i tentativi devono essere abbastanza intelligenti. Perché quando ho letto su un giornale che bisognava avere 4 metri per 4, sono scarso in matematica, ma per me fa 16 metri quadrati o no? Erano troppi. Poi ha incorretto subito il colpo, il tiro. Però, ecco, è una situazione sconosciuta e vanno per tentativi. Certo. E quindi l'opposizione avrebbe dato segno e avrebbe guadagnato voti a Iosa collaborando. E dire, vieni qua Conte, che ti diamo una mano. Vediamo di fare qualcosa assieme. Vediamo di studiare. E non sempre contro come gli ariete. Ma secondo lei di chi è la principale responsabilità della mancata collaborazione? Del governo o dell'opposizione? Anche del governo, di entrambi, perché tutti hanno questo cavallo imbizzarrito, che è il coronavirus, che non sono riusciti a domare. Però è nel recinto, lo toccano, lo cavalcano, li scuote giù. Quindi non solo dell'opposizione, ma anche la paura di essere scalzato, tirato via dal potere. E poi c'è anche la parte di Renzi. Qui l'Italia ha avuto l'unica occasione, da dopoguerra in qua, l'unica occasione l'ha avuta e la sta mancando clamorosamente, goffamente, maldestramente, l'unica occasione di dimostrarsi intelligente. Tutto gruppo. Vediamo di fare il meglio che si può. Vediamo di salvare capra e cavoli. Vediamo di tornare a far partire il lavoro, ma con meno rischi possibili. Non si fa... Si ricorda i capponi di Renzo e Lucia. Sono uguali. Andavano al maceglio, ma si becchettavano tra di loro. Guardi, questo glielo devo fare un applauso per quello che ha detto adesso. Perché comunque questa è una grande occasione che non andrebbe mancata. L'Europa è perduta e l'Europa ci guarda e dice, lascia che si azzuffi. Qui dovevamo dimostrare veramente di essere super. Come in teoria lo siamo, solo che le risse mandano tutto in malora. L'occasione è perduta. Ma senta, un'altra cosa le volevo chiedere. Ha visto che la scorsa settimana, ne abbiamo pure parlato in trasmissione quando c'era Farinetti, che è arrivato quel decreto che... Cioè, c'è stata quella regolarizzazione dei migranti, soprattutto che ci sarà, anzi, che lavorano nei campi agricoli, oppure come colfo, come badanti. E la ministra Bellanova si è commossa quando ha annunciato questo provvedimento, si è emozionata e l'hanno anche criticata per questo. Ma non le sembra che sia una bella cosa partecipare così intensamente alle proprie battaglie, insomma, commuoversi per le conquiste importanti che vengono raggiunte. È una cosa bella da parte della politica, non da criticare. Lei che ne pensa? Ma io, se chiedo il mio parere personale, delle lacrime dei ministri non è che mi fidi... Non mi piacciono, ma bisogna trattenerle, poi magari andare a casa e mettersi a urlare, a piangere... Ecco, mi piace invece l'idea, e spero venga realizzata bene, di mettere in regola questi poveri anime, questi faticatori dell'inutile di un euro all'ora, due euro all'ora. Quelli, è inutile che vengano a dirmi prima gli italiani, mandali tu a tirassù pomodori a un euro all'ora gli italiani. Qui le malghe, le malghe del Friuli, non ce le ha più nessuno. Le andate agli albanesi, le andate agli indiani, perché quelli vogliono lavorare le malghe. I nostri non vogliono più farlo, che che ne dicano. Quindi, plaudo a questa legge che finalmente mette in regola i poveracci faticatori. Sì, anche perché poi dobbiamo dire che non è così semplice poi lavorare in questo campo. Non è che ci si improvvisa, bisogna comunque avere un'esperienza. Ma che la si fa per raccogliere la roba, la frutta, la verdura? Ora si fa presto a fare esperienza. E però, spero con questa regola, con questa legge, che vengano eliminati i piccoli ducci, i capò, quelli che questi qui sono anche, e sono anche tra di loro. Perché quando si è nel pericolo c'è quello che avanza un gradino. Anche da Auschwitz c'erano dei delatori tra i nostri. Beh, c'erano i capò. I capò guadagnavano un gradino in più. Questo è da smantellare via. Come si fa a non avere pietà e pena e dolore per un povero uomo di colore o non di colore che fatica 15 ore al giorno. Io ho fatto 15 ore al giorno in cava di marmo. E so cosa vuol dire spaccare pietre. Lì raccolgono frutta e verdura. E senza una casa, senza una doccia, come si fa? E come le carceri italiane. Un paese civile si vede dallo stato delle carceri e da come tratta i suoi manovali. E siamo all'ultimo posto, secondo me. Ecco, volevo farle un'ultima domanda. Ditemi se è pronto. No, ancora non è pronto. No, allora niente. Allora andiamo avanti, perché dopo di là dovremo avere il Ministro della Saute Roberto Speranza. Mi dicono che ancora non è pronto. Allora, ha visto che nel decreto rilancio quello che finalmente è arrivato stasera è stato firmato dal Presidente della Repubblica che era un po' in ritardo è previsto anche questo bonus di 500 euro per l'acquisto di biciclette, monopattini e bici elettriche. Crede che insomma funzionerà? Che sarà un incentivo? Vabbè, lei lì non le servono. No, io ancora pedalo senza batteria. Casomai mi serve altro, ma non sto qui a dirglielo. No, ecco, lasciami perdere. Evitiamo. No, va benissimo. Guardi, c'è il mio amico di Corvara, dell'Hotel Perla, che ancora 15 anni fa aveva adottato queste biciclette. Perché può andare a percorrere i passi dolomitici anche un anziano come me e può godere delle bellezze, può faticare quello che si sente perché si possono regolare. Questa è una buona idea, anche se ovviamente dalle tv rivali viene derisa. È un'ottima idea. Un'ottima idea. Il monopattino, io sarei più bicicletta perché il mio amico Celio quando comprò il motorino e cade tre volte, li riportò il motorino al rivenditore di Maniago che si chiamava Pontello e disse, le ridò il motorino, ma perché, signor Corona, non voglio soldi indietro, ma perché mi ridà il motorino? Perché ho scoperto che è ribaltabile. A me ormai servono quattro ruote. Senta, allora, un'ultima domanda le devo fare. Ma cosa c'è scritto lì dietro di lei che vedo tutti gli appunti? Che ci ha messo lì dietro? Qui? No, dietro, dietro la sua... C'è come una... Come un calendario, un calendario. Ah, no, c'è il calendario con tutte le corse in montagna che ho fatto, una al giorno. Ho capito, va bene. Ho fatto tutte le cime, sì. Va bene, va bene. Tutte, sono contento, sì. Mi chiedevo che cos'era. Allora, siamo in chiusura. Vuoi dire un'ultima cosa? Allora, l'ultimo scherzo. L'altra volta si è offesa perché... Allora... Non mi dica che è di Grieco, che è di un libro di Grieco. Vivere alcalini, vivere felici. C'azzecco, ecco. Se lo lega. Andrea Grieco. Andrea Grieco, eccolo là. Vabbè, questo secondo me c'è la percentuale. Vivere felici. No, ma adesso voi potete leggere quello che vi pare e ho il massimo rispetto. Ma se lo lega anche lei, perché la maggior parte, mi diceva, delle malattie arrivano da infiammazioni, perché il corpo è acido e non alcalino. Lei però non è mai stata acida. Adesso deve fare lo spiritoso perché l'altro giorno ha detto che ero acida, vabbè. Stasera sta in buona, sono molto contento. E ogni tanto, via. Certo, certo, vabbè. Ci vediamo martedì prossimo, sempre con Mauro Corona. Buona settimana, a martedì. Buona vita a lei, a voi tutti. Grazie. Alla prossima settimana.